Per prima di iniziare il video, ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace, grazie! Terribile tragedia questa mattina in Italia in seguito alla quale vi sono state delle vittime, stando a quanto si apprende, come riportato da fanpage.it, per cause che al momento risultano ancora da accertare. Due autoarticolati si sono scontrati frontalmente, con uno dei mezzi che avrebbe sfondato il guardrail, finendo fuori strada. In seguito al terribile schianto per i due conducenti dei mezzi non c'è stato niente da fare, sono morti praticamente sul colpo. L'incidente si è verificato lungo la Monti Lepini, nel territorio di Priverno, in provincia di Latina. Sulla base delle prime informazioni raccolte, i conducenti dei due autoarticolati rimasti coinvolti nell'incidente hanno perso la vita sul colpo. Immediati i soccorsi da parte degli operatori del 118, che sono giunti sul posto con l'ambulanza nel tentativo di salvare la vita ai due uomini. Purtroppo, però, per loro non c'era più nulla da fare ed i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.